Un incontro come oggi è un esempio positivo di come si può diffondere anche questa conoscenza. Ad esempio io non sono un'esperta d'ambito, però mi sono comunque sorpresa di quante poche cose conoscesse rispetto alle normative antidiscriminazione e penso che sia fondamentale conoscerle perché questo è l'orizzonte in cui ci muoviamo.